ehi il corteggiatore la divina hanno fatto pace ragazzi vogliono chiudere l'anno in bellezza hanno fatto pace ah ok dopo sei mesi di litigate all'ultimo sangue oh ecco qua pubblicamente la pace è stata fatta ragazzi però per ora sono in pace benissimo vai yes bene bene bel viso ok oh allora allora benissimo vediamo se qualche uomo è così romanzico vediamo se ti ha un messaggio